Grazie a tutti. I primi 5 metri in gara sono bambini, per cui prestate maggiore attenzione. Grazie a tutti. Wow! 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 Grazie a tutti. Sono 5 concorrenti in gara, si tratta di bambini, questa è una categoria che funziona in base all'età dei bambini, si parte dai 5 anni e si corre fino ai 13 anni, quasi 14, 14 meno un giorno, dai 14 anni in poi si va in categoria superiore. Per cui si può partire dai 5 ai 13 anni, quasi 14 diciamo, quindi 5 concorrenti in gara, ci tengo a specificare che per quanto riguarda noi della Speed Down Project consideriamo vincitori tutti questi bambini. Già solo indossare il casco e partecipare alla gara per noi vincono tutti, questa è solo una semplice classifica. Quinto classificato Bevacqua Luigi Premia Maurizio Carrozza della Proloco di Sersale Il quarto classificato è il più piccolo della ciurma, Mangone Luigi Terzo classificato gradino più basso del podio Mirante Andrea Secondo classificato Nicodemo Gabriele Vince la categoria C9, 4 gare su 4, Ricca Salvatore Grazie Applausi No, non spruzzate No, non spruzzate Collana da loro per il primo classificato Sappiamo che avresti voluto spruzzare tutti, però non te lo consentiamo perché fa freddo Sì, bene Ci siamo Renato? Fatto? Ok Alla prossima ragazzi